Sessore Santa Venere, è passato il maltempo, domenica prossima verrà recuperato questo importante appuntamento con il Cost Day. Speriamo che questa volta il tempo ci assista e infatti abbiamo dovuto rinviare tutte le attività che si svolgeranno appunto all'aperto e quindi il Village Arena del Mare, presso l'Arena del Mare, inizierà alle 9.30 di domenica 24, quindi con tutte le attività che vedranno coinvolte le associazioni che appunto si occupano come Mare Vivo, WWF, Centro Studi Cetaci, abbiamo il Club Aquatico, la Biodanza, quindi tutte le attività che saranno rivolte al pubblico e alla città. Verranno distribuiti i gadget, ci sarà la distribuzione dei posaceneri da scabili, molto importante perché stiamo appunto puntando alla riduzione appunto della situazione che noi abbiamo spesso quindi sulla spiaggia di Cicche ma anche appunto nel contesto urbano e ovviamente poi ci sarà il momento finale quando noi appunto con questo grande progetto vogliamo anche appunto coinvolgere il grande pubblico e avremo quindi Fiorella Mannoia che canterà il mare e il concerto essendo appunto domenica 24, l'abbiamo anticipato alle 21.30 per dare la possibilità quindi a tutti i pescaresi e ovviamente a tutti coloro che vorranno unirsi a noi qui a Pescara per appunto cantare il mare tutti insieme.